Diagnostica per immagini da modernare e UTIC da ristrutturare. Sono queste le priorità alle quali la direzione della ASL provinciale sta lavorando per migliorare l'offerta sanitaria nel territorio frentano. A indicarle il direttore generale Thomas Schell incontrando la stampa nell'ospedale di Lanciano, assieme al direttore sanitario Angelo Muraglia. La modernamento tecnologico del Renzetti passa attraverso una logica di rete, con le strutture di Atessa e Casoli, dice il manager. La parola d'ordine è quindi integrazione tra il DEA di primo livello di Lanciano, il PTA di Casoli e l'ospedale di Atessa. Lanciano avrà in autunno la seconda TAC da affiancare a quella attuale, datata e non più adeguata, con i suoi 16 strati. Sarà sostituita, precisa il manager, con il finanziamento già chiesto dalla regione. Nell'attesa saranno utilizzate le donazioni già acquisite, con altre che sono in arrivo, per un secondo apparecchio a 160 strati, da destinarie alle attività programmate e ai pazienti no covid, mentre l'altra sarà a servizio del pronto soccorso. Lo strumento è stato acquistato in Olanda, ad un prezzo conveniente, in quanto utilizzato per le esposizioni di settore. La Renzetti necessita di ristrutturazione, ma i fondi promessi dalla precedente amministrazione regionale non erano mai stati erogati, rimarca Schell, che al Dipartimento Sanità ha avanzato richiesta di un milione e mezzo di euro per la riqualificazione dell'unità operativa dell'UTIC, ritenuta una priorità assoluta per le condizioni di inadeguatezza inquiversa. Abbiamo attivato il cantiere per la ginecologia, abbiamo chiesto un milione e mezzo per l'UTIC di Lanciano, stiamo nell'ambito del nostro budget rafforzando l'organico, tra cui 30 infermieri nuovi che arrivano, ottorini, urologi e radiologi e altro personale che servirà sicuramente il direttore sanitario si farà portavoce in direzione per completare l'organico, per cui questo è un ospedale vecchio ma che può di nuovo funzionare per tutto il comprensorio nell'anno prossimo. Sul fronte amianto invece i sotterranei sono stati bonificati, i tecnici sono al lavoro per renderli parzialmente fruibili per il trasporto dei malati, nel rispetto delle norme di sicurezza, soprattutto antincendio. Infine si procede per terminare il corridoio del pronto soccorso diretto da Antonio Caporrella, con cui si è svolto un incontro per programmare i lavori. Il problema dell'ambiente è praticamente risolto, noi abbiamo bonificato tutti i sotterrani, buona parte delle reparte rimane a completare il corridoio centrale del pronto soccorso, appunto sono oggi qua per parlare con il direttore Caporella, e una parte della radiologia e poi avremo completato tutto il percorso del pronto soccorso. Sul piano assunzioni, 30 infermieri sono stati assegnati al Renzetti a tempo determinato, mentre a fine agosto saranno emanati gli avvisi per l'assunzione di urologi, otorini e odontoiatri.